La notte scorsa alcuni agenti della volante del reparto prevenzione crimine della questura di Cosenza, dopo essere stati allertati da alcuni giovani, hanno trovato accampati sotto i portici di via Pasubbio, nei pressi dell'Asp, una giovane donna con due bambini rispettivamente di 2 e 3 anni e un neonato di 4 mesi. La donna si trova in Italia perché essendo stata allontanata da casa in Romania dal marito aveva raggiunto alcuni parenti per cercare accoglienza, ma dopo neanche una settimana di permanenza è stata allontanata da casa in quanto i suoi familiari non sono stati in grado di provvedere al suo mantenimento. Un secondo allontanamento avvenuto peraltro in un paese a lei sconosciuto che ha costretto la donna con i suoi tre figli a trascorrere la notte sotto i portici. Una scena particolarmente toccante è quella che si è presentata agli agenti della questura di Cosenza che dopo aver preso in consegna la donna con i tre figli piccoli hanno cercato di trovare loro un riparo presso varie associazioni e case famiglie della città con esito negativo. arrivati a questo punto gli agenti di polizia per permettere di trascorrere la notte al sicuro e al caldo hanno accompagnato la donna e i suoi tre figli presso un albergo della città pagando loro stessi il pernottamento.